Adesso, un grande cabaretista, speaker, attore ed autore, silarantissimo e abruzzesissimo. Per la sua presenza ringrazio ancora il mio amico Fabrizio Ferrini e la sua arte e spettacolo. Signore e signori, finalmente ad Avezzano si ride con Vincenzo Olivieri. Grazie, grazie. Carissimo. Buonasera a tutti, grazie. Felice di averti qua. No, io sono felicissimo perché veramente mi mancava questa parte d'Abruzzo ed è importante per me essere qui perché insomma io vado predicando l'Abruzzo da tanto tempo e quindi mi fa piacere anche far conoscere un po' quello che insomma vado dicendo anche qui questa sera. Quindi grazie a voi per avermi invitato, è stato un invito veramente piacevolissimo. Grazie Vincenzo. Mentre noi facciamo i conteggi, tra l'altro ho visto che si è alzato il comandante Orante Pisotta, perché io come sempre quanto sono contento di fare come Ponzio Pilato, me ne lavo altamente le mani, i conteggi se li fanno loro e c'è tanto di sostituto commissario della polizia stradale che sovraintende alle operazioni di scrutinio perché qui è 5, 4, 9, più 1 fa 10, quello ha vinto punto. Benissimo. Adesso ridiamo? Non lo so, dipende. Io prima di tutto sono un appassionato della mia terra, sono abruzzese. Di Pescara, vero? Di Pescara. e devo dire che l'Abruzzo io ogni tanto lo vivo anche con le persone che vengono da fuori e a me da fastidio, credo un po' a tutti quanti quando ci danno, cioè non ci conoscono ma cominciamo Avizzano, qualcuno mi ha detto dove è Avizzano? noi a Pescara, vicino Roma perché effettivamente non ci conosco anche il fatto delle temperature bisogna metterci perché noi abbiamo perché noi abbiamo praticamente Ancona l'Aquila Campobas, noi stiamo a Pescara cominciamo a vestire, lo devi dire almeno Manuela tu sei testimone, è una mattina weekend comunque io da quando ci sono io che faccio questo spazio del medico, c'è anche Pescara? Roma, l'Aquila, ci infilo sempre comunque la piana del Fucino e poi Pescara noi da Ancona non sappiamo cosa succede sulla costa fino a Bari, quindi a Bari si risa quindi è una cosa un po' complicata e devo dire che mi dà fastidio anche quando arrivano quelli da fuori quelli con la pozzetta sotto al naso, quelli del profondo noto che dico, e cacchio, voi siete terroni non fate niente, oh da sta calma voglio dire, noi sembra che non facciamo nulla noi facciamo tutto prima perché non perdiamo tempo a parlare a Milano già se devono salutare ci mettono tempo, ciao Giovanni, tutto bene? un secondo, veloce come? Gna? Capito? quando noi abbiamo finito di parlare cioè noi parliamo velocemente quando hanno finito di parlare noi già abbiamo lavorato prima ecco perché sembra che non facciamo niente ma noi siamo laboriosi e lavoriamo tantissimo e se la Toscana è stata la culla della lingua italiana l'Abruzzo è stata la culla di tutto il lingue del mondo cioè grazie a noi il mondo parla e questo bisogna capirlo, bisogna dirlo questa me la devi spiegare che non lo so come no perché anticamente c'era l'odore di Babbele nessuno parlava però anticamente poi due arabi passavano le nostre parti e sentivano due brussesi che dicevano se dobbiamo scendere scendiamo se non dobbiamo scendere scendiamo cioè siamo a Calacaleme siamo a Calacaleme è arabo, capito? dove vi? vai allà, allà ce l'ha fatto anche il Dio, capito? attenta che la curva abbahata sa curva è arabo, capito? la lingua cinese deriva dalla brussese teneteli tutti tu a Giulianova così si dice, no? quindi straccione cinciò, capito? si dice, no? tu ci manchi tu ci aming la dinastia aming famosissima, no? la lingua tedesca a chi metti lo sgambetto a chi ciung che vai dicendo chi tacunde già bolli ya bollala si dice, no? per non parlare gli inglesi gli inglesi hanno rubato tutto già dal numero uno come si dice un inglese? one come si dice quest'anno in abruzzese? one uguale quest'anno mi cambia la macchina one mi cambia la macchina arrivi a proposi si dice you came a scopo you came a scopo giochiamo a scopo anche uno dice beh scusa scusa cambiare in autobus changing bus changing bus vanno bagnato changing bus ma ti dire changing bus si dice no? però uno può dire però Olivieri tu sostieni che la lingua abruzzese non è un dialetto ma è una lingua però ce lo devi dimostrare e lo dimostro perché noi siamo non siamo cioè non abbiamo il dialetto abbiamo la lingua abruzzese perché noi abbiamo delle regole grammaticali vere e proprie noi siamo sicuramente anche superiori all'italiano l'italiano c'ha due usiliari essere e avere noi ce ne abbiamo quattro essere, avere, stare e tenere siamo più precisi mica diciamo ho sete no siamo più precisi tengo e sete esprimiamo anche il fatto che abbiamo sete immediatamente Vincenzo si vede che sei forte e sereno quasi quasi non avresti bisogno del disco Corazza ma invece io te lo voglio subito ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio l'ho dato qualche anno fa a un tuo amico e collega Anduccio che tu avete un ottimo rapporto lo so e poi insomma tra l'altro guarda qua ecco vedi non ci possiamo sono tutti alti sì questo burdo fa il mio bandaiolo no no sono a vederla Alessandra Alessandra che ti consegna il disco Corazza il premio Civiltà dei Marsi grazie ad un grande attore grazie speaker autore scrittore abruzzese Vincenzo Olivieri grazie grazie a voi tutti speriamo di verci presto così parleremo poi di altro ciao speriamo che Fabrizio che fa tante magie nello spettacolo io lo devo ringraziare perché lui è un altro dei miei grandi collaboratori e ti hanno portato qui insomma sono sicuro che anche quest'estate potrei fare qualcosa chi lo sa forse anche in piazza Risorgimento vedremo grazie arrivederci ciao Vincenzo grazie a tutti ciao grazie Vincenzo Olivieri